Il centro-sinistra pescarese all'attacco della Giunta Masci sui ritardi relativi all'iter di approvazione del bilancio di previsione del Comune per il 2023. Uno stato di cose che, secondo gli esponenti del centro-sinistra, è la spia di uno scontro sotterraneo tra le forze di maggioranza in merito all'assegnazione delle risorse. Perché si possa iniziare a esaminare un bilancio bisogna che la Giunta Comunale presenti l'elaborato di bilancio, cioè la Giunta che il governo della città predisponga agli strumenti che serviranno poi al Consiglio Comunale per approvare o meno questo bilancio. La verità è che siamo al primo di febbraio e non c'è ancora nulla quando da Tuel il termine era il 15 novembre. Sostanzialmente sono passati due mesi e mezzo senza che la Giunta si sia degnata di comunicare al Consiglio Comunale qual è lo schema di bilancio per il 2023. Ovviamente non è una dimenticanza, dipende dal fatto che ci sono delle difficoltà per farlo quadrare, dalle voci che noi avevamo raccolto, c'era la differenza di qualche milione che in qualche modo non riuscivano a coprire, sino che sono ammantati col fatto che sperano che il governo dia contributi e risorse. Però è necessario che sulla base delle risorse disponibili la Giunta faccia il suo mestiere, cioè faccia le scelte. È evidente che mancherà qualcosa ma dovranno scegliere le priorità. È una carenza, è una sciatteria amministrativa straordinaria perché insomma le date parlano chiaramente e poi non era mai accaduto nella storia di questo comune. Cioè è accaduto più di una volta che si votasse a gennaio, qualche volta anche a febbraio il bilancio in Consiglio Comunale, ma sempre nei termini o comunque sempre entro la fine di novembre la Giunta aveva predisposto gli atti necessari a che il Consiglio Comunale potesse votare il bilancio. Quindi la nomalia gigantesca di quest'anno è che invece siamo al primo febbraio e la Giunta ancora non deposita nulla perché non è stata in grado di fare le scelte che doveva fare.